Presso l'auditorium dell'Istituto Alberghiero Gregorio Ronca di Montoro, la conferenza stampa di presentazione del progetto per la nuova palestra. Al tavolo il presidente della provincia, Rizieri Buonopane, il sindaco di Montoro e consigliere provinciale, Girolamo Giacquinto, il dirigente e il personale scolastico. I lavori verranno realizzati grazie ad un finanziamento regionale, ad un'integrazione da parte della provincia. Erano decenni che l'Istituto attendeva la realizzazione di questo intervento. Volere evitare presentazioni spot ma concentrarci solamente sulla realizzazione di una palestra che era attesa da questo istituto da 30 anni. D'altra parte le vostre inquadrature alle mie spalle faranno vedere una struttura in ferro che è qui presente da 30 anni che doveva essere questo centro sportivo polivalente, non so come declinarlo, però abbiamo deciso invece di optare per una struttura moderna. Quindi dopo 30 anni di esposizione il primo elemento sarà l'abbattimento della struttura in ferro e quindi poi l'area sarà destinata a questo cantiere di questa nuova tipologia proprio di intervento. Ma noi in un annetto dovremmo concludere tutto, però diciamo che molto dipenderà chiaramente dalla capacità dell'impresa, da eventuali problematiche che si possono fare. Sono periodi in cui le parentesi anche ai lavori sono determinate anche da elementi che obiettivamente uno non può controllare. Un esempio può essere semplicemente il Covid, questo può determinare chiaramente l'assenza di operai e quant'altro.